La Sorresinese si fa beffare nel finale dal Città di Segrate e non riesce a scappare, anche se tutte le inseguitrici pareggiano e dunque il punto non fa troppi danni. Assenze in retroguardia e infortuni in corso d'opera in avanti creano qualche problema ai Rosso-Blu. Primi spari da fuori, l'erede impegna Ghidini, Mirtezza alza la punizione dal limite. Sempre Mirtezza al ventitresimo libera Brunetti, che di testa trova De Santis per il vantaggio locale. La Sorresinese però non ha il solito killer instinct ed è pure sfortunata. La botta al volo di Prandi c'entra in pieno il palo. Brunetti invece non arriva su un bel cross a centro area. Risponde da fermo il Segrate, la punizione di Santi si spegne di poco a lato. Ripresa, Mirtezza trova una parata monstre di Biazzi a sbarrargli la strada. L'erede da fuori sfiora il palo dopo errore in uscita della difesa Rosso-Blu. La gara si complica per il rosso a Mirtezza al sessantesimo e così il Segrate cresce. Un fallo di Guercio all'ottantanovesimo porta al rigore finale. Brunetti si fa espellere e sarà fuori nel big match con la Soncinese assieme a Mirtezza. Sama trova invece il pareggio sotto la traversa, in tribuna, attimi di nervosismo. Poi tutto si ricompone a parlare nel dopogara il tecnico di casa Andrea Mizzotti. Mi dispiace perché comunque abbiamo fatto secondo me un grandissimo primo tempo. Abbiamo creato 4-5 palle goal. Purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. Nel secondo tempo, con un episodio a mio avviso molto discutibile, anche perché parlando con i ragazzi che erano in campo, un'espulsione per una cosa del genere è sembrata molto esagerata. Ci ha sicuramente penalizzato. Dopodiché hanno trovato il golli sul rigore all'ultimo minuto, che a mio avviso anche quello era un po' generoso. Però ci sta, abbiamo altre partite e dobbiamo concentrarci su quelle. Più che altro, gli strascichi di questo sconfitto si faranno sentire magari nelle prossime, perché perderete Mirtezza e Brunetti per squalifica. Avete già delle defezioni dietro. Questo è il problema forse maggiore. Abbiamo vinto partite anche senza questi giocatori, quindi abbiamo un gruppo di 20 ottimi giocatori. Di conseguenza, su questo punto di vista, non sono affatto preoccupato. Andremo in campo in 11 e saranno 11 giocatori validi, con altrettanti giocatori in panchina pronti a subentrare e dare il massimo. Quindi mi aspetto ovviamente tanto da chi non ha giocato oggi, che avrà l'opportunità un mercoledì di dimostrare tutto il suo valore senza nessun problema. Grazie. Grazie.